L'austerità, lo studio dei testi sacri e l'offerta dell'azione a Dio costituisce la disciplina dell'unione mistica. Questa disciplina è praticata al fine di acquisire fissità della mente sul Signore, libero da tutte le impurità e le agitazioni, o sulla propria realtà, e per attenuare le afflizioni. Le cinque afflizioni sono l'ignoranza, l'egoismo, l'attaccamento, l'avversione e il desiderio di aggrapparsi alla vita. L'ignoranza è il terreno di cultura per tutte le altre, siano esse dormienti o attenuate, in parte superate, o pienamente operative. L'ignoranza è prendere il non eterno per eterno, l'impuro per puro, il male per bene e il non sé per il sé. L'egoismo è l'identificazione di colui che sa con gli strumenti della conoscenza. L'attaccamento è quel modello magnetico che attrae verso il piacere e preme una persona verso tale esperienza. L'avversione è quel modello magnetico che attrae verso la miseria e preme una persona verso tale esperienza. Fluente dalla sua propria energia, con sede sia nei saggi che negli stolti e il desiderio senza fine per la vita. Questi modelli sottili possono essere rimossi attraverso lo sviluppo dei loro contrari. Le loro sofferenze attive sono distrutte dalla meditazione. Le impressioni delle azioni hanno le loro radici nelle sofferenze e nascono come esperienze nel presente e nelle nascite future. quando la radice esiste il suo frutto è la nascita, la vita e l'esperienza. Si ha il piacere o il dolore come frutto a seconda che la causa sia virtù o vizio. Tutto è sofferenza per il saggio a causa dei dolori del cambiamento, dell'ansia e degli atti di purificazione. Il dolore che non è ancora aggiunto può essere evitato. La causa dell'evitabile è la sovrapposizione del mondo esterno sul mondo invisibile. Il mondo esperito è costituito dagli elementi e dai sensi in azione, ha come natura la cognizione, l'attività ed il riposo, ed ha come scopo l'esperienza e la realizzazione. Gli stadi degli attributi che effettuano il mondo esperito sono il definito e l'indefinito, il differenziato e l'indifferenziato. L'abitante interiore è pura coscienza che, sebbene pura, vede attraverso la mente ed è identificata all'ego, essendo l'ego, la mente stessa. L'esistenza stessa della cosa vista è in funzione di colui che vede. Anche se la creazione è percepita come non reale per colui che ha raggiunto l'obiettivo, è ancora vero che la creazione rimane l'esperienza comune per gli altri. L'associazione di colui che vede con la creazione è per il distinto riconoscimento del mondo oggettivo, così come per il riconoscimento della natura specifica di colui che vede. La causa di questa associazione è l'ignoranza, la liberazione del veggente è il risultato della dissociazione di colui che vede con la cosa vista, con la scomparsa dell'ignoranza. La pratica costante della discriminazione è il mezzo per raggiungere la liberazione. La saggezza costante si manifesta in sette tappe. Alla distruzione delle impurità attraverso la pratica costante delle varie parti dell'unione, yoga, la luce della conoscenza rivela la facoltà di discriminazione. Le otto parti dello yoga sono autocontrollo, yama, osservanze, niyama, posture, asana, controllo del respiro, pranayama, astrazione, pratyahara, concentrazione, dharana, meditazione, dhyana, realizzazione, samadhi. L'autocontrollo nelle azioni, yama, comprende astensione dalla violenza, ahimsa, dalla falsità, satya, da rubare, asteya, da impegni sessuali, bramacaria e dall'accettazione di doni, aparigraha. Queste cinque astensioni non sono limitati da rango, luogo, tempo o circostanza e costituiscono il grande voto. Le osservanze fisse, niyama, sono pulizia, appagamento, austerità, studio e devozione perseverante a Dio. Quando la mente è disturbata da pensieri impropri si deve meditare sui loro opposti. Pensieri ed emozioni impropri, come la violenza che sia fatta, provocata a fare o addirittura approvata, anzi, ogni pensiero originario originato da desiderio, rabbia o delusione, che sia moderato, medio o intenso, provoca dolore e miseria senza fine. Superare tale distrazione, meditando sugli opposti. Quando uno è fermamente stabile nella non violenza, l'ostilità cessa alla sua presenza. Quando uno è fermamente stabile nel dire la verità, i frutti dell'azione diventano sottomessi a lui. Quando si è fermamente stabile nell'onestà, le ricchezze si presentano da sole. Quando si è fermamente stabile nella continenza sessuale, si ottiene forza spirituale. Quando si è fermamente stabile nella non possessività, si ottiene la conoscenza dei come e perché dell'esistenza. Dalla purezza segue il disincanto sul proprio corpo, così come la cessazione del desiderio di contatto fisico con gli altri. Come risultato dell'appagamento c'è purezza di mente, concentrazione e controllo dei sensi e capacità di realizzazione del sé. Con l'appagamento si raggiunge la felicità suprema. Attraverso la santificazione e la rimozione dell'impurità sorgono poteri speciali del corpo e dei sensi. Con lo studio del sé si ottiene la comunione con il Signore, nella forma più contemplata. La realizzazione si sperimenta rendendo Dio il motivo di tutte le azioni, le posture devono essere stabili e comode e rilassandosi senza sforzo, sommersi mentalmente nell'infinito con attenzione assoluta. In conseguenza non vi è alcun disturbo della dualità. Quando si è realizzato questo, il passo successivo è il controllo del respiro, cioè delle energie in entrata e in uscita. Il respiro può essere esterno, interno o intermedio, regolato da tempo, luogo o numero, di durata breve o lunga. Il controllo del respiro che va oltre la sfera di esterno e d'interno è il quarto livello, quello vitale. In questo modo ciò che copre la luce viene distrutto, così la mente diventa adatta alla concentrazione. Quando la mente mantiene la coscienza non si confonde con i sensi né con impressioni sensoriali, allora l'autoconsapevolezza fiorisce. In questo modo si ha la completa patronanza dei sensi.